La sinergia Valdarno ricomincia da Coach Caim, la squadra ha già iniziato la preparazione e il gruppo è composto principalmente da ragazzi molto giovani, ma tutti con esperienze importanti, un mix di graditi e ritorni affidabili, conferme e nuovi innesti, completo per puntare a raggiungere la salvezza in maniera diretta e anticipata, per poi levarsi delle belle soddisfazioni e continuare a favorire l'arrivo in prima squadra dei tanti giovani del settore giovanile. La base del quintetto di Coach Caim è basato sulle riconferme di cinque giocatori che il tecnico conosce molto bene dal momento che sono cresciuti nel settore giovanile della Fides e saranno anche quest'anno il punto di riferimento per tutto il gruppo. Le prime riconferme sono quelle del capitano Michelangelo Innocento, un leader in campo e fuori Leonardo Ceccherini, genio Ezraio Ladezza, Pietro Marchionni, cresciuto in casa sinergi, capitano dall'under 14 fino all'under 20, si è conquistato minuti importanti lo scorso anno con impegno, dedizione e sacrificio, Sebastiano e Tobia Resti, minuti molto importanti anche per loro lo scorso campionato, Igor Vaselinovic, classe 2001, un atleta in continua e costante crescita tecnica e fisica. Dovrà confermare le cose positive fatte vedere appena passate in attacco e cercarsi di migliorare in defesa. Nella lista degli arrivi in casa sinergi, il primo è un grandito ritorno, quello di Matt Diav, classe 93, che ritorna in Val D'Arno dopo quattro anni trascorsi in un college americano per studi, dove ha avuto modo di maturare una bella esperienza che lo porta all'attenzione degli addetti ai lavori. Il gruppo squadra di Caimi si completa con l'arrivo di quattro ragazzi che hanno voglia di migliorare e ritagliarsi in proprio spazio in un campionato importante come quello di Cigold e il coach dovrà contribuire a favorire il loro inserimento mettendo a loro disposizione. Tutta la sua esperienza sono Lorenzo Cherubini, cresciuto nel settore giovanile di Reggio Emilia, per poi passare all'MPS Moncaliere e ultimamente, negli ultimi due anni, in Serie B. Nicola Miatovic, origine bosniaca, gioca in Italia dal 2017, gli ultimi tre anni passati nelle giovanile delle Chieti Basket con esperienze nelle formazioni senior in Serie B e Lega di A2. Luca Valle nell'ultima stagione ad Alessandria in Serie B dove si è conquistato a minuti importante Paolo Sgura proveniente dal Social OSA Milano dove ha avuto modo di fare esperienze in un campionato senior di Serie C Gold.